Il segreto. Amori proibiti per una protagonista. Anticipazioni trame spagnole. Amori impossibili e peccaminosi emergono dalle anticipazioni delle puntate Il Segreto trasmesse in Spagna, nelle quali la giovane Beatriz si troverà a vivere una storia che lascerà su di lei un segno indelebile. La sopravvissuta la tragedia d'Elia Raal deve cominciare a fare i conti col proprio passato e le proprie origini, quello che accadrà davvero dell'incredibile. Prima parte. Beatriz non è una Mella. Proprio nelle puntate Il Segreto recentemente trasmesse in Italia è emerso che Beatriz non è in realtà la figlia di Gabriel e Yolanda Mella, gli sfortunati proprietari dell'Elia Raal che hanno trovato la morte la notte dell'incendio della tenuta. La giovane, che ha riportato un forte trauma infantile che le aveva tolto la parola, è in realtà figlia di Hernando Dos Casos, che noi abbiamo conosciuto come il suo tutore, e della sua prima moglie, Manuela, anche la morta durante un incendio. Per Beatriz, che aveva collegato Hernando ai suoi incubi più terribili, è uno shock, specie quando suo padre viene arrestato con l'infamante accusa di aver ucciso Manuela e l'altro loro figlio, Ismael. Seconda parte. Un nuovo amore per Beatriz. Molto presto arriverà a Piente e via il misterioso ed ambiguo Ismael e la giovane Beatriz perderà letteralmente la testa per lui, tanto da arrivare addirittura al punto di lasciare Matthias per vivere questo nuovo amore. Con il tempo, però, emergerà una inquietante verità, Ismael e altri non è che suo fratello Damian Dos Casos, che tutti credevano morto nell'incendio in cui era morta anche la loro madre Manuela. Da sempre Damian aveva mostrato di soffrire di gravi disturbi mentali, ed era stato proprio lui ad apiccare il terribile incendio nel quale Beatriz si era miracolosamente salvata dopo che in più di una circostanza egli aveva cercato di uccidere la sorellina. Ultima parte. La verità su Ismael. Damian, dunque, scampato all'incendio, arriva in paese sotto falso nome e chiede lavoro ad Hernando. Divenuto suo fedele collaboratore, comincerà a corteggiare Beatriz, e cercherà addirittura di sedurla. Tra i due fratelli ci sarà un bacio appassionato, mentre si capirà immediatamente che l'intenzione del ragazzo è quella di vendicarsi della famiglia Dos Kessos. Presto, però, le cicatrici che egli porta addosso riveleranno la verità sulla sua vera identità e Damian continuerà a creare grossi problemi alla famiglia. Egli cercherà addirittura di uccidere Camila, la moglie del padre, verso la quale prova una versione feroce dovuta probabilmente ad una morbosa forma di gelosia nei confronti di Hernando. Non perdete dunque le prossime anticipazioni il segreto provenienti dalla Spagna e continuate a seguire le vicende che movimentano la vita degli abitanti di Puente e Viejo. Grazie a tutti.